Allora siete del gruppo? Volete fare le madrine? Dai venite qui, fate le madrine? Così c'è anche la stampa e siete immortalate nella storia, ecco così. Dio Onnipotente e Misericordioso benedica questa taglia nel nome del Padre, del Padre e dello Spirito Santo. Dio Onnipotente e Misericordioso benedica. Dio Onnipotente Dio Onnipotente e Misericordioso benedica. Dio Onnipotente 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.